ma non sono un jukebox signori una sorpresa invito sul palco a cantare con me Marco Travaglio sarà una sorpresa perché canta bene intonato più di certi cantanti un vento a 30 gradi sotto zero incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili a tratti come raffiche di mitra disintegrava i cumuli di neve e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari e intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari e tutti sui gradini di una chiesa aspettavamo che finisse messe e uscissero le donne poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nijinsky e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi, l'inverno con la mia generazione, le donne curde sui telai vicine alle finestre. Un giorno sulla prospettiva Niewski, per caso vi incontrai Igor Stravinsky, iiii, iiii, e gli orinali messi sotto i letti per la notte un fin di esenstain sulla rivoluzione. E gli orinali messi sotto i letti per la notte un fin di esenstain sulla rivoluzione. E studiavamo, chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petronio. E quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'imbrunire. Grazie a tutti.